Si sta chiedendo cosa sta succedendo, per cosa c'è anche un progetto? Mi faccio capire, questi 3 milioni e mezzo, che ha trasmizzato, che è questo posto, adesso, parla di 3 milioni e mezzo, possiamo capirlo adesso, adesso, sta guardando, si gira un secondo, sta guardando come si tratta la situazione, sta vedendo, sta vedendo i colori tramutarsi Assessora, mi dite il po' che sono già andati da male, ma adesso, possiamo chiedere cosa sta succedendo, ricordare, 2 milioni e mezzo, a me, per essere migrati, 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 assessore, allora, organizziamo, non vorresta, non vorresta mettere i guanti, non vorresta mettere i guanti E anche io, ma io lo faccio a migliore, ma tutti vogliamo un futuro, no, risponda alla telecamera, 3 milioni e mezzo, per cosa servono, per quale progetto preliminare, perché non ce lo spiega? Ma perché i 3 milioni e mezzo non li ho progettati io, di cosa stiamo facendo? Allora, ragazze, allora, ragazze, perché non ce la risposta è solo voi, perché io devo pensare alla vita meno grande e poi a tutte le politiche, io devo pensare alla loro vita, se crede che per me è facile, se mi chiamano e dico che devo trovare un risposto per 70 persone, con una città che sta piangendo, crede che per me è facile, cioè, pure chiamano, se io ti vado a fare sto passino non faccio mai tutto, allora, io bisogno di capire quante persone hanno bisogno di un'accoglienza o no, perché gli altri hanno il miglioramento, dico, ovviamente non è tutto, voi due, voi tre, voi tre. Noi non andiamo in posto per andare, tutti quanti qui sei solo. Io un elenco, mi hanno dato un'equilibrio...